Sicuramente sono tante le emozioni del ritorno e sono molto felice di essere ritornato qui comunque in questa piazza dove mi sono cresciuto, dove ho gioito e spero continuerò a gioire anche in questi anni. Sono emozioni forti che solo chi ha l'onore di indossare questa maglia sa cosa si prova. Io quello che posso dire è che darò sempre il massimo, sicuramente conoscere la piazza, conoscere l'importanza di questa maglia e l'importanza degli obiettivi ti spinge a dare sempre il massimo e a superare quegli ostacoli che a volte pensi che sono impossibili ma con la forza e con la tenacia si superano. Soprattutto a livello di mentalità, di spirito, di appartenenza alla città e alla maglia quindi devo davvero ringraziare la società che mi ha ridato questa opportunità e li ripagherò sempre dando il massimo. Tifosi gli dico di sostenerci sempre, di aiutarci come hanno fatto in questi anni e di credere sempre in quello che è il nostro obiettivo.